un saluto a tutti i lettori di tuttoandroid.net siamo con Galaxy Note 8.0 per andare a vedere più da vicino ce l'avete chiesto praticamente tutte le funzionalità collegate alla S Pen che sappiamo essere il tratto caratteristico di tutta la serie Note dei dispositivi Samsung e quindi ovviamente anche di questo Note 8.0 allora, innanzitutto vediamo che nel momento in cui andiamo a togliere la penna dall'alloggiamento il tablet ha un leggero feedback dal punto di vista della vibrazione si apre questo pop-up per quanto riguarda le note all'interno delle quali possiamo andare a scrivere direttamente ed è un'opzione questa che come vedremo sarà attivabile dalle impostazioni e si apre la classica scheda, tra virgolette, tematica della TouchWiz dove, dedicata in questo caso alla S Pen ma se ne apre un'altra anche ad esempio quando colleghiamo delle cuffiette al jack da 3,5 mm con questa finestra dove possiamo creare una nota tra quelle disponibili per quanto riguarda i modelli o ovviamente andare a visualizzare l'elenco delle note che abbiamo già creato e magari aprirne una e modificarla allora, innanzitutto andiamo ad aprire S Note per fare un po' una panoramica tra le opzioni e le varie funzionalità di questa applicazione davvero ben fatta come vedete queste sono le varie note che abbiamo già creato sono presenti di default alcuni modelli questa è una cartella che abbiamo creato noi e come vedete nel momento in cui avviciniamo la S Pen in una cartella ci vengono mostrate le anteprime quindi c'è questo sensore che va praticamente a riconoscere la vicinanza della S Pen un po' come avviene sull'S4 per quanto riguarda il dito andiamo innanzitutto a creare una nuova nota è possibile scegliere ovviamente tra le varie opzioni per quanto riguarda, ad esempio possiamo scegliere di creare una nota vuota con quindi dei righi un disegno libero quindi con dei quadrettini una nota all'unione, una rivista, un diario, una ricetta e così via andiamo ad esempio a creare una nuova pagina di diario ci verrà visualizzata questa immagine che possiamo ovviamente andare a personalizzare e poi ovviamente la data e le righe per scrivere creiamo un altro tipo di documento ovviamente nel momento in cui usciamo da una nota ci sarà la sincronizzazione perché ogni nota, ogni disegno che facciamo è sincronizzato con il nostro account Samsung quindi ce lo ritroviamo anche sugli altri dispositivi Samsung che abbiamo andiamo ad aprire una nuova nota abbiamo ovviamente la possibilità di scegliere i diversi tipi di penna da utilizzare ad esempio la penna classica, pennello artistico, pennello calligrafico, matita e la cosiddetta penna magica ovviamente è possibile scegliere diversi colori che è possibile selezionare dalla tavolozza e lo spessore della penna mettiamolo più o meno al minimo selezioniamo il pennello colorazione nera la matita con colorazione nera e proviamo a scrivere allora, presente la sensibilità alla pressione quindi se ad esempio abbiamo un tratto leggero il disegno sarà in questo modo se invece pigiamo più fortemente come vedete sarà molto più scuro e spesso ovviamente la scrittura è praticamente ottima su questo dispositivo questo perché il Note 8.0 così come tutti i dispositivi della serie Note ha una penna che non è la classica penna capacitiva ma funziona in collaborazione con un layer classico delle tavolette Wacom quindi particolare proprio per ad esempio quelle utilizzate nelle tavolette grafiche per andare a per riuscire a disegnare in maniera molto ma molto precisa ad esempio selezioniamo pennello artistico no anzi penna e proviamo a scrivere qualcosa ovviamente non badate alla calligrafia ovviamente come vedete la scrittura è molto ma molto veloce è molto comoda possibilità di attivare o disattivare la funzionalità che praticamente riconosce o meno le dita quindi se la disattiviamo non riconoscerà le dita in questo modo potremo poggiare tranquillamente il palmo all'interno sullo schermo senza andare a scrivere cose non volute e questo devo dire è molto ma molto comodo perché solitamente quando ad esempio scriviamo su un quaderno teniamo poggiato il palmo e scriviamo direttamente dopodiché per quanto riguarda le altre funzionalità possibilità di inserire la cosiddetta buzz idea come si fa in pratica si va ad avvicinare la S Pen alla nota ve lo mostro meglio e tenendo schiacciato questo tastino che a seconda della zona all'interno della quale ci troviamo assume diverse funzionalità quindi avvicinando la S Pen mantenendo schiacciato il tastino si apre la cosiddetta buzz idea ora se all'interno di questa buzz idea ad esempio scriviamo macchina c'è il riconoscimento nessun risultato per macchina questo perché ad esempio non è presente una clipart corrispondente alla parola macchina se invece ad esempio scriviamo auto ci verrà mostrata un'auto che possiamo andare ad inserire direttamente all'interno del nostro promemoria o della nostra nota possibilità ovviamente di aumentare e diminuire la grandezza spostarlo in avanti indietro rispetto al layer copiare tagliare eliminare e così via andiamo nuovamente nella buzz idea possibilità di scaricare nuove nuove clipart che sono divise nelle varie famiglie ce ne sono davvero davvero moltissime ad esempio aprendo azioni andiamo un attimo a caricare ci verranno visualizzate tutte le azioni corrispondenti scarichiamo ad esempio ballare solo 33k byte cosa facciamo scriviamo ballare ora nel momento in cui scriveremo ballare all'interno di buzz idea verrà riconosciuto ballare e ci verrà mostrata la clipart che abbiamo scaricato immagine quindi anche qui che è possibile selezionare in qualsiasi posizione e così via possibilità di registrare ciò che stiamo disegnando quindi ad esempio se clicchiamo su registrare disegno andiamo un attimo a cancellare ciò che abbiamo fatto se iniziamo a registrare il disegno iniziamo a scrivere possiamo cancellare scrivere nuovamente fare tutto ciò che ci pare locale la registrazione praticamente ci sarà un video all'interno della galleria in corrispondenza della cartella di S-Memo dove ci verrà mostrato tutto ciò che abbiamo registrato fino ad ora vi mostro un po' quelle che sono le altre opzioni di S-Memo possibilità di inserire immagini scattare foto inserire direttamente clip art già fatte quindi non quelle di bozza idea ma altre possibilità di inserire una casella di testo una forma ad esempio possiamo inserire un quadrato in questo modo ingrandirlo diminuirlo fare tutto ciò che vogliamo appunti e così via mentre qui possiamo entrare o uscire dalla modalità modifica se usciamo dalla modalità modifica entriamo in quella di visualizzazione possiamo visualizzare il video che abbiamo precedentemente registrato in questo modo come vedete quindi questo è tutto ciò che abbiamo registrato prima oppure eliminare il disegno registrato entriamo nuovamente nella modalità modifica possibilità possibilità di ricercare informazioni all'interno della nota che abbiamo scattato o ad esempio di cambiare la modalità di inserimento questa è direttamente con la penna abbiamo la modalità di inserimento delle forme che riconoscerà praticamente i poligoni immediatamente andiamo un attimo a cancellare altrimenti non verrà visualizzata in maniera corretta possiamo ad esempio fare un cerchio ci verrà trasformato nel cerchio corrispondente triangolo un quadrato un qualsiasi un quadrato che in questo caso è diventato un cerchio un qualsiasi poligono non è possibile in questo caso riconoscere forme in questo modo poligono che è stato trasformato come vedete andiamo nuovamente a visualizzare possibilità di inserire delle formule possiamo ad esempio scrivere sommatoria con i che va da 1 ad n questo caso ha riconosciuto i-1 di x elevato ad come vedete ha riconosciuto quasi perfettamente la forma proviamo a cancellare 1 e a riscriverlo ecco qui quindi come vedete sommatoria con i che va da 1 ad n di x elevato ad ed è possibile inserirlo all'interno della nota in questo modo quindi funziona davvero molto molto utile nel caso in cui ad esempio seguiamo un corso e abbiamo la possibilità di prendere appunti molto facilmente possibilità anche di riconoscere direttamente ciò che scriviamo e trasformarlo e trasformarlo in testo come se lo scrivessimo con la tastiera quindi ad esempio scriviamo ciao in questo modo e ci viene riconosciuto in questo caso ha riconosciuto ciao a causa della brutta calligrafia proviamo a scrivere nuovamente ciao in questo caso l'ha riconosciuto in maniera adatta quindi ciò che scriviamo viene riconosciuto come testo oppure inserire direttamente il testo da 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 tastiera nella maniera quindi ovviamente classica possibilità di scegliere la formattazione e tutto ciò che è legato ad esso direi che per S-Memo è tutto vi mostro un attimo quelle che sono le altre funzionalità collegate ad S-Pen andiamo un attimo nelle impostazioni scegliamo S-Pen cosa molto importante nel Galaxy Note 8.0 la penna viene riconosciuta anche sui tasti soft touch e questa è davvero una cosa molto comoda perché prima dovevamo andare ad utilizzare per forza il dito come detto andiamo in S-Pen possibilità di aprire o meno il pop-up note che è quella finestrella che avete visto quando ho estratto la S-Pen dal tablet possibilità di disattivare l'elevamento della penna quando la penna non è collegata anteprima della S-Pen che è una funzione che vi mostro subito dopo e feedback acustico e tattile quando andiamo a scrivere e poi ci sono i comandi rapidi che vi mostro un attimo allora per quanto riguarda l'anteprima dell'S-Pen è una funzionalità che ad esempio funziona nella galleria andiamo un attimo ad aprirla se vogliamo aprire la cartella le immagini di test magari avere semplicemente un'anteprima andiamo ad avvicinare la S-Pen avvicinando la S-Pen come vedete ci vengono mostrate le foto presenti all'interno della cartella e possiamo poi andarle a visualizzare una specifica cosa che funziona anche in altri campi come ad esempio in flipboard possibilità di effettuare screenshot direttamente dalla home mantenendo schiacciato il tastino qui della S-Pen ad esempio effettuando un crop quindi un taglio proprio della home è possibile poi andarlo a condividere sulle varie applicazioni social network o tutte le app che lo permettono possibilità di aprire comandi rapidi in questo modo comandi rapidi che sono utili in quanto se ad esempio scriviamo punto interrogativo con meteo verrà fatta una ricerca del meteo direttamente su internet per quanto riguarda i comandi rapidi funzionano anche ad esempio nel browser web se vogliamo andare indietro alla pagina precedente non c'è bisogno di cliccare qui ma possiamo anche effettuare il comando rapido in questo modo sempre mantenendo schiacciato il tastino della S-Pen e cliccando facendo sulla funzione corrispondente dopodiché direi che per le funzionalità della S-Pen in relazione al Note 8.0 è tutto il tablet quindi sotto questo punto di vista è molto portato per un utilizzo tra virgolette business quindi per prendere ad esempio appunti o anche per effettuare disegni devo dire anche molto carini con un'applicazione dedicata come ad esempio sketchbook oppure ovviamente utilizzando quella di default S-Note che funziona davvero molto molto bene e soprattutto ha molti modelli a disposizione per effettuare diversi tipi di note o di documenti vero e proprio da Emanuele Capone è tutto per tuttoandroid.net grazie a tutti grazie a tutti